Storicamente il periodo tra fine dicembre e inizio gennaio è di culto per lo sci nordico, in particolare oggi parliamo di salto speciale e qui il periodo è a maggior ragione di culto perché si parla dei tournei dei quattro trampolini. Tornano dunque i Nordic Podcast sul canale di cui abbiamo avuto già un'anteprima con lo storico podio di Annika Sieff per la combiata nordica italiana. A sto giro però parliamo di salto speciale e presentiamo la settantesima edizione della tournei dei quattro trampolini, una manifestazione veramente di prestigio che come appunto prestigio del titolo è secondo soltanto alle Olimpiadi che peraltro saranno a febbraio in Cina e anche qui ovviamente faremo i podcast approfonditi. Oggi però parliamo della tournei dei quattro trampolini, una tournei dei quattro trampolini che vede tanti contender potenzialmente in lotta per questa manifestazione, due su tutti in particolare Karl Geiger per la Germania e Ryo Yuko Bajashi per il Giappone in una manifestazione però che può regalare sorprese come spesso è capitato anche ad outsiders di lusso e che outsiders perché per esempio non sottovalutiamo di certo Alvor Grandelud per la Norvegia ma anche Kamenstock per la Polonia e tutti questi atleti però parleremo dopo prima di presentare un attimo anche una volta come si svolge la tournei, che trampolini saranno coinvolti e poi parleremo evidentemente di chi sono i favoriti e perché con l'ultima parte della nostra nazionale italiana che sarà impegnata, speriamo, per tutto il torneo dei quattro trampolini. Partiamo però dalla tappa di oggi che appunto come dicevo inizia appunto la tournei dei quattro trampolini, parliamo del trampolino di Oberstdorf, lo Schattenberg-Schanze che abbiamo già avuto modo di conoscere lo scorso anno ai Mondiali di Scinordico dove abbiamo avuto tanti successi di prestigio, vedi per esempio il successo di Johannes Ramparter per la combinata nordica che ha battuto uno dei goti della disciplina, ovvero Jarl Magnus Lieber. È un trampolino che può sicuramente dare evidentemente tante indicazioni soprattutto su chi possono essere i favoriti per il proseguo della tournei. Non è un trampolino storicamente decisivo però diciamo che può indirizzare comunque l'andamento della manifestazione. È un trampolino imponente, si salta sul grande di Oberstdorf, appunto lo Schattenberg-Schanze che ha un punto HS di 140. Storicamente però a Oberstdorf c'è vento alle spalle e un vento alle spalle può effettivamente condizionare l'andamento di una gara e avvantaggiare alcuni attenti piuttosto che altri. Vedi per esempio in questo caso il tedesco Karl Geiger. È una manifestazione che appunto si concluderà il 29 e poi si trasferirà ovviamente sempre in Germania ma a Garmisch, Paterkirchen nella classica mi verrebbe da dire di Capodanno in un trampolino sicuramente molto imponente, probabilmente il più imponente di tutta la tourneia di quadro trampolini è un trampolino che ha un HS anche qui 142 se non sbaglio, punto K fissato a 125 metri, storicamente si dice che è adatto ai volatori ma è vero fin lì perché il trampolino di Garmisch storicamente per conformazione ti spara in alto. Lo stacco dal dente del trampolino di Garmisch Paterkirchen è obiettivamente importante e di conseguenza gli atleti si ritrovano spesso a saltare da una quota molto più alta rispetto obiettivamente ad altri trampolini come per esempio può essere anche quello di Bischof Schofen che anche quello è imponente ma ha un dente oltre modo particolare. Va detto però che storicamente le tappe tedesche della tourneia non sono quelle decisive, la cartina di tornasole vera e propria della tourneia di quadro trampolini è sicuramente la terza tappa che anche qui storicamente si disputa a Einsbruck in Austria e qui abbiamo la visuale delle Bergisel quando era piena di pubblico, quest'anno la tourneia non sarà tutta esaurita di pubblico anche perché sia in Germania che in Austria a causa delle restrizioni che appunto sono state fatte per la nuova variante per il Covid-19 saranno appunto a porte chiuse ma ciò non toglie che il Bergisel è la cartina di tornasole della tourneia e probabilmente lo sarà anche quest'anno perché i contendenti sono tutti di altissimo livello e anche se arrivassimo alla terza tappa con un duello tra Geiger e Kobayashi per dire che sono i due più grandi favoriti per questa tourneia a maggior ragione il Bergisel potrà spostare gli equilibri quindi verso l'uno o verso l'altro atleta, è un trampolino che ha un punto K a 120 metri e un punto HS 130 è un trampolino molto particolare perché a maggior ragione conta lo stile che è valutato secondo, ricordo una scala di punteggio ben precisa che va di fatto da un massimo di 20 fino a un minimo di 10 a memoria, in ogni caso è un trampolino appunto dove se uno fa il salto perfetto può spostare gli equilibri, più alto è il valore dello stile meglio è perché dico il più alto il valore dello stile meglio è perché essendo che probabilmente gli atleti di alto livello cadranno tutti nella stessa zona di misura o quantomeno ballerà probabilmente poco spazio e per poco spazio intendo un metro o due appunto le votazioni dei giudici saranno assolutamente fondamentali oltre ovviamente le condizioni del tempo che appunto possono aggiungere o togliere punti a seconda delle condizioni trovate Innsbruck poi fa da preludio alla tappa conclusiva della manifestazione che appunto anche qui è in Austria e passiamo a Bischoff-Schofen che anche qui è un trampolino di grandi dimensioni qui forse più storicamente è vero, adatto ai volatori anche se il trampolino di Bischoff-Schofen è molto particolare perché a differenza del dente di Garmisch che ti spara verso l'alto qui abbiamo un dente molto difficile da sentire perché di fatto prima del diciamo decollo dal trampolino c'è una parte in piano che appunto crea difficoltà ai vari atleti nel sentire il dente per usare un termine tecnico e di conseguenza non è anormale vedere dei salti abortiti o quantomeno male eseguiti è comunque un trampolino storico quello di Bischoff-Schofen dove abbiamo visto per esempio l'anno scorso Camille Stock trionfare per la terza volta da noi adeguato trampolini abbiamo visto Kobayashi, lo stesso Stock, completare dei grandi slam della tournée qualcosa di veramente allucinante abbiamo visto Peter Preutz arrivare a completare una serie incredibile di tutta la tournée segno che appunto Bischoff-Schofen è un trampolino storico perché spesso consacra i grandi campioni di questa disciplina che è veramente una delle più affascinanti a mio modo di vedere dello scinordico una disciplina che peraltro ha diciamo delle regole diverse o meglio questa tournée ha delle regole diverse rispetto alla Coppa del Mondo e qui ci arriviamo una Coppa del Mondo che di solito qualifica i primi 50 atleti dopodiché si va a una serie di gara a 50 atleti al quale però vengono eliminati gli ultimi 20 i migliori 30 classificati al termine della prima serie vengono poi appunto ammessi alla seconda e poi si segue l'ordine invertito della prima serie per fare in modo che appunto si saldi dal trentesimo al primo così viene stabilita la classifica della tappa di Coppa del Mondo e poi appunto vengono assegnati i punti al vincitore da 100 per il vincitore a 1 per il trentesimo la stessa cosa si può proporre per la tournée di quadro trampolini ma per quanto riguarda la qualificazione e qui ci arriviamo e per questo possiamo prendere come riferimento la lista di partenza che abbiamo preso dal sito della FIPS per parlare di questa tournée di quadro trampolini che vede 70 atleti al via per quanto riguarda quantomeno la prima tappa si parte da Vitali Kaninicenko atleta ucraino classe 93 fino ad arrivare a Karl Geiger leader attuale di Coppa del Mondo col pettorale numero 70 di questi 70 atleti appunto dicevamo in questo caso ne verranno ammessi 50 ma a differenza di una gara di Coppa del Mondo tradizionale non vengono ammessi semplicemente i primi 50 ma i primi 50 vengono accoppiati secondo un sistema head to head è come se fosse un testa a testa tecnistico vengono fatti però degli accoppiamenti particolari in modo che la somma dei pettorali degli atleti sia sempre 51 per dare un'idea se Karl Geiger vencesse la qualificazione ovviamente si qualificherebbe come primo nell'accoppiamento della gara del giorno dopo in questo caso domani 29 dicembre andrebbe ad affrontare l'ultimo dei qualificati quindi in questo caso il cinquantesimo di conseguenza sarà probabilmente uno scontro a favore del più forte in classifica generale cosa che invece potrebbe non succedere per gli scontri intermedi che in realtà sarebbero i primi che vedremo a saltare nella gara della tournée perché nella tournée ricordo si parte con lo scontro 26esimo contro 25esimo una volta esauriti gli accoppiamenti si creeranno dunque 25 vincitori diversi per ogni scontro diretto ordinati secondo la classifica a punteggio tradizionale come in Coppa del Mondo a quali però verranno aggiunti 5 lucky losers in realtà sarebbe più corretto dire il termine ripiascati che appunto sono i migliori sconfitti degli scontri diretti si crea dunque una seconda serie a 30 e poi si prosegue con la seconda serie tradizionale dunque dal trentesimo classificato della prima serie fino al primo e poi si stabiliscono appunto non solo i punteggi di Coppa del Mondo ma anche i punteggi della tournée che semplicemente sono la somma degli otto salti di gara delle quattro tappe della tournée chi accumula più punti al termine della tappa di Bischof Schofen è dichiarato vincitore della tournée dei quattro trampolini questo è per sommo riassunto il regolamento della tournée dei quattro trampolini adesso andiamo a vedere chi sono i favoriti un po' ne ho già accennato nella presenza dei trampolini un po' mi sono tenuto qualche nome da parte perché è importante sottolinearlo partiamo da chi è in testa alla classifica della Coppa del Mondo ovvero il tedesco Karl Geiger che è uno degli atleti che ha comunque un rendimento altissimo se andiamo a vedere evidentemente il rullio di marcia in Coppa del Mondo è un atleta che ha avuto la fortuna innanzitutto però di correre tutte le gare cosa che altri contendono non hanno fatto ma è comunque un atleta in stato di grazia perché dall'anno scorso quando nelle gare che contavano ha vinto le medaglie è stato veramente un atleta assolutamente da battere soprattutto in contesti dove magari la spinta potesse incidere più di tanto e soprattutto dove ci sono delle condizioni magari non così favorevoli vedi per esempio vento di coda per tutti Karl Geiger però comunque ha aperto questo e è diventato col tempo un saltatore completo e il rendimento infatti anche in questa stagione lo dimostra e qui ci spostiamo nella schermata appunto di quest'anno di Coppa del Mondo Karl Geiger tolto gara 2 di Kligenthal dove è finito 22esimo ha sempre ottenuto i risultati in top 10 e i podi si sprecano veramente su tantissime categorie ha fatto podio a Nizh Nizhagil ha fatto podio a Kusamo gara 2 ha fatto podio soprattutto in Polonia a Visua ha vinto la gara di Engelberg gara 1 ha vinto anche la prima gara di Nizh Nizhagil all'esordio in Coppa del Mondo quindi comunque è un atleta che va battuto su diversi contesti di gara e per questo evidentemente è uno dei favoriti a vincere la tournée quantomeno secondo il ruolo di marcia di Coppa del Mondo va detto però che il vero favorito secondo me è un altro per quanto riguarda il rendimento pound for pound ed è Ryo Yuko Bayashi Ryo Yuko Bayashi è secondo nella classifica generale di Coppa del Mondo il giapponese però ha avuto uno svantaggio rispetto a Carl Geiger e lo vediamo nel suo ruolo di marcia perché il giocatore giapponese è stato evidentemente colpito dal Covid-19 o meglio è stato sottoposto a un tampone in Finlandia il tampone è usato positivo e per la legge finlandese l'attreta giapponese non il giocatore come ho detto prima è stato costretto a subire una quarantena di 10 giorni in Finlandia di conseguenza il buon Kobayashi ha dovuto saltare diverse gare di Coppa del Mondo e nonostante questo il vantaggio di Carl Geiger su Kobayashi è esiguo ma perché? nelle poche gare che abbiamo visto fare a Kobayashi il rendimento è stato veramente qualcosa di incredibile sembra tornato il Kobayashi di qualche anno fa quando dominò gli avversari fu la stagione 2017-2018 per dare un'idea Kobayashi ha già vinto tre gare in Coppa del Mondo e nessuno a oggi prima della pausa natalizia ha vinto più del giapponese quando non ha vinto è sempre stato in top 10 per dare un'idea il peggior risultato è stato un settimo posto anche lì che è in tal gara 1 questo dà assolutamente l'idea di quanto sia in questo momento superiore Kobayashi in generale secondo me è veramente lui l'uomo da battere Carl Geiger comunque è un avversario di tutto rispetto e oltremodo fastidioso però vedere un rendimento del genere in Coppa del Mondo con delle gare saltate e di fatto un primo posto che non è arrivato soltanto per questo motivo fa secondo me drizzare più di qualche antenna e il favorito logico secondo me è Kobayashi però per il discorso che ho fatto prima Carl Geiger può essere sicuramente un atleta da non sottovalutare anzi Carl Geiger spesso soprattutto in Germania va battuto e di certo non è facile ci sono poi dopo gli outsider per questa turniera di quadro trampolini e il primo che mi viene in mente è colui che è terzo nella classifica della Coppa del Mondo di salto con gli sci di quest'anno ed è Alvor Granrud che è il vincitore della scorsa edizione della Coppa del Mondo peraltro è diventato in questa stagione il norvegese più vincente di sempre Granrud quindi anche per questo il norvegese non va sottovalutato certo è un Granrud che non appare così dominante come lo scorso anno ma comunque anche lui è uno che secondo me può puntare non alla vittoria in generale ma comunque al podio il premier di Granrud lo vediamo qui nel rendimento di Coppa del Mondo alterna per stazioni mostruose vedi per esempio i podi a Nishnitagil a Kligenthal per fare degli esempi ha delle prestazioni orrende da per esempio mancate qualificazioni vedi per esempio Ruka a gara 1 48esimi posti in Coppa del Mondo che sono piazzamenti diciamo che di solito competono a atleti di terza quarta fascia e poi dopo non ha mai più trovato la quadra certo sì è vero il podio appunto a Kligenthal poi il quinto posto sempre nel stesso contesto e poi le top 10 a Engelberg che comunque non sono malaccio il problema che appunto Garnard deve difendere la Coppa del Mondo consegnatagli diciamo dominando tutti gli avversari della scorsa stagione e bisognerebbe avere una difesa secondo me un po' più competente certo Garnard deve sistemare qualche meccanismo e per quello secondo me non è probabilmente il primo outsider che mi viene in mente però comunque ripeto è il novecento che ha vinto di più nella storia della Coppa del Mondo di salto speciale appunto per la nazione scandinava e di certo è un atleta che se trova poi il giusto click mentale può assolutamente competere anche per la tournée va detto che è complicato vedere un Garnard questo Garnard quantomeno fare otto salti di fila nel modo corretto uno che invece può provare a vincere secondo me la tournée se azzecca tutti i salti e può provarci visti i mezzi che ha è Stefan Kraft che anche lui è un atleta che è riuscito quest'anno a vincere più di una gara in Coppa del Mondo Kraft ne ha vinte due è un Kraft che arriva però a questa tournée abbastanza scarico perché la tappa di Engelberg non gli ha dato delle soddisfazioni nono posto in gara 1 e quattordicesimo in gara 2 ma Kraft è un altro da grandi eventi ed è uno che quando c'è una medalla in paglio il titolo della tournée si accende e poi dopo è difficile batterlo ricordiamo che Kraft ha già vinto una tournée in carriera conclusosi proprio con una gara mostruosa a Bischof Schofen peraltro Bischof Schofen è anche il luogo dove Kraft accumulò il primo podio della carriera chi invece di tournée se ne intende è quest'uomo un uomo che appare l'unico salvatore della patria della sua nazione ed è uno che secondo me se trova veramente la quadratura del cerchio può veramente rivincere la tournée Kamil Stock ha la possibilità di fare un miracolo che in realtà è più un miracolo da tifoso io sono un ammiratore di Kamil Stock e il cuore mi dice che può tentare il colpaccio e vincere la tournée certo con questo Kobayashi con questo Geiger è veramente difficile ma Stock comunque nonostante i piazzamenti che non sono per il momento competenti a un campione come lui sta trovando anche lui la quadra del suo sistema di salto per una Polonia in generale che sta facendo veramente tanta tanta fatica una Polonia che appunto deve però aggrapparsi al solo Kamil Stock che è vero non ha ancora vinto in questa stagione ha fatto comunque dei podi in particolare a Kligenthal ha fatto dei buoni risultati a Engelberg in particolare la gara 1 meno bene in gara 2 sedicesimo ma un po' come Kraft Stock è stato condizionato da una prima serie oltremodo svantaggiosa per quanto riguarda le condizioni del tempo però è un Stock che comunque sta saltando bene sta dimostrando comunque di essere sul pezzo e di conseguenza un Kamil Stock che ha già vinto tre tournée di cui una col grande slam e l'ultima peraltro con una gara di Innsbruck veramente incredibile in questo contesto è da battere e dunque attenzione perché il GOAT uno dei GOAT della disciplina meglio può tentare la zampata e regalare una ennesima soddisfazione a tutti gli appassionati di questo sport per una Coppa del Mondo in generale comunque di salto con gli sci speciale maschile che effettivamente ha del buono su cui lavorare perché come vediamo c'è stato tantissimo equilibrio di fatto tra i vincitori di tappa Karl Geiger ha sempre avuto in realtà il pettorale giallo ma ripeto oltre per meriti suoi e anche per il fatto che Kobayashi innanzitutto non ha corso tutte le gare e poi gli altri avversari erano talmente equilibrati che appunto si toglievano punti a vicenda quando magari Karl Geiger sbagliava abbiamo avuto tantissimi vincitori diversi nelle prime gare di Coppa del Mondo appunto due gare alla vinta Geiger una alla vinta Alvor Gano di cui abbiamo già detto una alla vinta addirittura Ancel Anisek che è di fatto lo sloveno più in palla e anche lui di fatto può essere considerato un outsider per una nazione che comunque deve ancora carburare in questa zona di Coppa del Mondo ma l'Anisek anche lui ha il problema che deve infilare otto salti in fila competitivi e questo Lanisek ci può riuscire certo non è però del livello di Kobayashi e Geiger che in confronto allo sloveno secondo me hanno evidentemente più chance l'altra vittoria a sorpresa arriva da Jan Erl che è l'austriaco che di fatto nessuno ci aspettava certo è un'autriaca della squadra austriaca e comunque merita di stare in Coppa del Mondo se mi avessero detto però che Avigua avesse vinto Jan Erl evidentemente avrei firmato da qualche parte perché appunto anche Jan Erl come Lanisek non ha mai vinto in carriera prima di quest'anno va detto però che secondo me tra Erl e Lanisek ci passa comunque abbastanza che in questo momento è superiore all'atleta austriaca che comunque è stato bravo a vincere la prima gara in carriera anche lui può essere un outsider ma probabilmente per le posizioni da top 10 un altro outsider è questo ragazzo Marius Linvik il secondo norvegese più competitivo dopo Granerud non ha ancora vinto Linvik ma comunque in queste gare sta ripetendo dei podi importanti vedi per esempio quello di Engelberg per esempio quello di Klick in tal gara 2 c'è anche quello di Visua insomma è un atleta che sta a saltare molto bene quindi attenzione a Linvik perché lui è un outsider molto pericoloso in chiave tournée e però già da Oberstdorf da domani vedremo cosa succederà per una appunto tournée di quadro trampolini che presenta 70 atleti al via peraltro ci sono anche due italiani che adesso andiamo ad analizzarli Giovanni Bresadola salterà col pettorale numero 24 che peraltro è il primo atleta punteggiato in Coppa del Mondo Alex Insam sarà invece il secondo italiano e partirà di fatto nel novero degli atleti sorteggiati visto che i primi 23 atleti di questa manifestazione non hanno ottenuto punti di Coppa del Mondo il gardenese in particolare salterà col pettorale numero 6 l'obiettivo degli italiani qual è? senza dubbio cercare di superare la qualificazione sarebbe già tantissimo considerato che ci sono 70 atleti al via e bisogna batterne 20 per accedere nei primi 50 qual è il vantaggio della gara di Oberstdorf e della gara anche di Garmisch di conseguenza non c'è il gruppo nazionale tedesco di solito la Germania schierava un numero di atleti incredibile per le tappe di casa in particolare 6 atleti del gruppo nazionale che spesso superavano anche loro la qualificazione di conseguenza avere tantissimi tedeschi di fascia A e di fascia B precludeva lo spazio alle nazioni di terza e quarta fascia per provare a qualificarsi in particolare vedi per esempio in questo caso l'Italia vedi per esempio qualche atleta estone vedi per esempio la Turchia che comunque anche lei è un atleta competitivo Stati Uniti Canada eccetera quindi senza questo gruppo nazionale tedesco abbiamo una competizione sì comunque molto competitiva ma comunque con qualche chance Insam non dovrebbe avere in realtà grosse chance di qualificazione anche perché in Coppa del Mondo il gardenese l'abbiamo visto poco i risultati migliori di Insam si sono visti in Coppa Continentale e in Fiscap che sono di fatto la serie B e la serie C del salto speciale in ogni caso in Coppa Continentale Insam può valere la top 10 o meglio la top 15 in Fiscap non ne sta neanche a parlare i risultati sicuramente migliori Giovanni Bersadoli invece ha comunque già fatto i risultati migliori del gardenese per una nazionale italiana che comunque spunta su questi due atleti c'è anche Francesco Ceccon ma comunque lui non viene schierato in ogni caso chi ha più chance di superare il taglio quanto meno le tappe tedesche tappe austriiche vediamo perché appunto col gruppo nazionale austriaco sarà un po' più complicato è appunto Giovanni Bresadola che ha caratteristiche molto importanti per gareggiare sia Oberstdorf sia Garmisch perché sono trampolini adatti alle caratteristiche del fratello di Davide che anche lui è stato un ex saltatore e anche combinatista Innsbruck per Giovanni può essere un pochino più complicata Bischof-Schofen secondo me invece è forse il trampolino più adatto al martellità da classe 2001 che comunque ha avuto il merito di essere a punti a Kligenthal nella gara 2 trentesimo e già questo è un buonissimo risultato per una nazionale italiana che comunque sta cercando di lavorare immagini in ottica olimpiadi del 2026 con una squadra comunque giovane al momento è in costruzione è al momento giusto puntare un po' sulla Coppa Continentale per cercare di fare quanti più punti possibili e accumulare dei meccanismi di salto importanti un po' è giusto che Bresadola faccia comunque esperienze in Coppa del Mondo che comunque abbiamo visto che è un atleta che le qualificazioni le può superare tantissimo e può comunque ambire quando va bene ha un piazzamento nei migliori 40 se poi va di stralusso a punti come abbiamo visto a Kligenthal comunque secondo me Giovanni in Coppa del Mondo ci può stare per insieme invece ancora c'è da migliorare per recuperare l'atleta che vinse una medaglia d'argento ai mondali juniors di qualche anno fa tutto questo per presentare la turniera di quadro trampolini edizione ricordo numero 70 che ricordo parte oggi con la qualificazione di Oberstdorf in Germania e si concluderà il 6 di gennaio con la tappa di Bischof Schofen e come l'anno scorso dove ho celebrato la vittoria di Kamil Stoch in un modo assolutamente imperioso ci sarà il Nordic Podcast il primo dell'anno 2022 per vedere chi sarà vincitore di questa grande manifestazione che ricordo sarà anche in diretta su Eurosport Italia con il commento sempre molto competente di Francesco Paone e Massimiliano Anvesi il saluto da parte di Miggia Torgert fate sapere cosa ne pensate di questa presentazione della turniera di quadro trampolini il saluto e di nuovo ci vediamo al prossimo video